Il libro l'ho portato, c'è un gatto sotto dal bidone, scappato il gatto, il cane dietro ha fatto una macchia, il gatto ha fatto tutta la macchia, il cane è nato dentro lo sportello, infatti mi ha ammaccato lo sportello. Io purtroppo non avevo questo terrore prima, io avevo due cani e poi che sono morti uno, una macchina è morta per essere sempre, mi ha provato le mani in casa e questo cane mi è morto sotto agli occhi, camminava dritto, attraverso la macchina la schiattava. Il libro è morto praticamente nella felpa perché ho chiesto di portarlo subito qui davanti, la mia veterinaria è che la sera, ho fermato la macchina in mezzo alla strada, i ragazzi sono fermati, sono gentilissimo, io da quel momento faccio fare tutto, mi piace tenere, però si è terrorizzata, le macchine mi mettono in terrore perché magari si tratta all'improvviso, la macchina lo frena.